Più di 140 anni di storia italiana per un birrificio, Angelo Poretti, che è partner del Padiglione Italia di Expo 2015. Alberto Frausina, amministratore delegato di Kaltberg Italia, Poretti. È stata la birra presente nell'Expo del 1881, il primo Expo fatto a Milano nella storia dell'Expo. Quindi non potevamo non essere presenti a questo Expo del 2015. Quindi siamo molto orgogliosi di essere dentro, siamo molto orgogliosi di essere dentro del Padiglione italiano, perché questo è un prodotto italiano e tra l'altro è un prodotto lombardo. Viene sviluppato a 30 km dal sito e quindi vogliamo far scoprire questa qualità dei prodotti, delle birre, perché abbiamo una capacità, una creatività tipicamente italiana e vogliamo esportare questo prodotto in giro per il mondo. Il sito produttivo della Poretti si trova in Duno, l'Ona, vicino al confine con la Svizzera. Noi riapriremo al pubblico il sito produttivo per dare a tutte le persone che vengono all'Expo la possibilità di fare un'esperienza diretta e vedere come si fa la birra, l'acqua, i luppoli. Un sito industriale che è un mix tra passato e futuro. Il passato è questo stabili liberty meravigliosi, quindi ha un fascino di una, proprio di una, è protetto dalle belle arti, quindi il fascino, e dentro ci sono le tecnologie più produttive, più evolute oggi al mondo.